Il mistero della vita e quindi questa scoperta inevitabile della povertà pone una prospettiva. Siccome da solo la mia solitudine si avvicina in modo quasi pericoloso alla morte, io devo riuscire a venire fuori da questa condizione mettendomi in relazione con qualche cosa. E' interessante perché il mito biblico mette Dio in una stranissima condizione che tenta di risolvere il mio bisogno di relazione con delle cose. Nel mito biblico gli regala tutto il creato. Nel linguaggio della Bibbia chi dà il nome a una cosa ne diventa il padrone, Dio glielo porta lì tutto e glielo regala. Ma l'uomo resta malinconico. E resta malinconico perché non c'è un aiuto, dice, simile a lui. E che cosa vuol dire simile a lui? E qui la lingua ebraica è estremamente ricca e dice è una realtà che può stargli davanti. Ma addirittura invece è una preposizione che custodisce e nasconde un verbo, il verbo annunciare. Quindi io ho bisogno di una relazione con qualche cosa, qualcuno, inevitabilmente dovrà diventare un qualcuno che sta pronto perché è in certo senso come me, ma è diverso da me al punto che quindi mi può dire qualche cosa che altrimenti non solamente io non so, ma non ho e non sono. Quindi ho bisogno di relazionarmi con una realtà, è vero? E quindi ormai diciamolo, con una persona che è e ha tutto quello che io non ho. No, è vero? Perché non sono. E quindi di fatto Dio poi nel mito biblico regala la donna all'uomo. E quindi la scoperta è che solo questa comunione mi fa essere quello che sono. Ecco questa esperienza della povertà per me è quotidiana. All'essermi poi sempre, insomma, per caso, però sempre occupato di una povertà anche materiale, sempre mi ha molto colpito il fatto che sotto ogni povertà anche materiale, uno non ha da mangiare o è malato per esempio, vero? C'è sempre in realtà una sete segreta più esigente, più profonda. E questo lo scopro sempre in tutti. Per cui mi ricordo che quando ero studente di teologia ci facevano fare delle esercitazioni per chiederci se c'era salvezza per il ricco. Ed era difficile perché c'è la faccenda di un cammello, di una crona d'ago. Un ricco si salvi è difficile. Ma poi nella mia esperienza umana ho scoperto che in realtà ogni persona è povera. Non c'è nessuno che non sia povero. Certe volte la povertà è clamorosa, è gridante, è squarciante, è spaventosa e quindi grida vendetta per niente a un non intervento. Altre volte è nascostissima. È una memoria ferita, è la perdita del grande amore della vita, è una povertà psicologica. È vero? Però in realtà gratta gratta arrivi sempre al fatto che ogni persona custodisce sempre un gemito. Allora c'è da chiedersi se questo gemito è una povertà e basta oppure se quella povertà non è appunto una ricchezza alla quale per ora non darei altro nome che questo nome relazione. Questa cosa mi costringe ad andare a cercare la pienezza di me stesso, non in me ma in un altro. È vero? Ecco. E di fatto poi mi pare che ci sia tutto un mondo, una cultura profonda che si costruisce appunto sul termine della relazione. Siccome siamo passati attraverso la povertà e il mio bisogno, qui forse c'è una distinzione molto importante tra la cattura e il dono. Nel senso che siccome io sono povero, le ipotesi sono due. La prima è che io catturi, mi impadronisca e la seconda è che io ricevo in dono il regalo. Questa è la grande alternativa insomma, che proprio a questo punto genera una divaricazione culturale assoluta. Siamo tutti sempre partecipi di tutte e due, ma in realtà però la decisione drammatica sta proprio lì. La prima conduce all'impero e la seconda conduce alla comunione. No, mi pare che questa sia la differenza più forte. Ecco, quindi l'ipotesi per me affascinante è che si scopre, e anche questo secondo me è scoperto di tutti, almeno è la mia speranza, che ognuno a un certo punto si incontri con il dono. E quindi gli succeda qualche cosa che è il dono. Perché il dono ha di questo diverso dalla conquista. La conquista è sempre necessariamente limitata perché devo poter capire, cioè prendere, devo possedere e quindi in qualche modo tenere nelle mani, nella testa, no? Invece il dono, no, è lui che mi possiede, è lui che mi avvolge, è lui che mi copre. E quindi in realtà da una parte l'istinto è il possesso, ma la pienezza è il dono. E quando una realtà diventa dono, io allora sono dentro a una situazione che umanamente è forse la più alta, no? E cioè che non ho bisogno di impadronirmi, di sorvegliare, di difendere guerra o non guerra, perché è il dono che mi avvolge, è lui che mi protegge. E quindi in realtà non è che è superata la mia povertà, è avvolta. Noi siamo praticamente l'unica creatura esistente, l'unica realtà esistente che conosce ancora il mistero e il dramma della nudità. Perché noi abbiamo la percezione della nudità? Perché siamo incompleti, perché ognuno in sé stesso è come nudo. È vero? E quindi non lo è più quando l'altra realtà ti copre, ti avvolge. Ma questo però non lo puoi conquistare, ti viene come dono perché non riesci neanche a fare un progetto di conquista. Tutto quello che prendi non ti copre, resti nudo, è piccolino ancora, è limitato. Invece si fa questa esperienza di una cosa stupenda, più grande di noi che ci avvolge. E questo allora sì, è il dono. E la categoria del dono è decisiva. Oggi è poverissima nel nostro tipo di cultura, di mentalità. Anche per esempio nei percorsi educativi che noi facciamo per i nostri figli o per i nostri scolari, gli diamo sempre l'idea che bisogna tutto conquistare, sempre, assolutamente, che lui anche vivrà quello che sarà capace di ottenere. E quindi il dono diventa quasi illegittimo, nel nostro tipo di cultura. È una cultura quindi molto dura la nostra, molto dura. Io non mi stupisco del fatto che molte persone siano mentalmente illanguidite o addirittura ferite, perché il terzo e il quarto mondo muoiono di fame, ma noi rischiamo di morire di questa tensione, di questa schiavitù proprio. Il dono non c'è da noi. E questo invece secondo me è la grande riscoperta che oggi è necessaria. Oppure merce. Oppure merce. Eh sì. Oppure è diventato merce. Eh sì, sì, è certo, è certo. E quindi, vabbè, adesso questa cosa andrebbe molto in là, perché l'emblema culturale di questo è proprio la donna. La donna è il simbolo del dono. È di quello che tu non... Siccome le culture sono tutte maschiliste, l'unico modo per fermare il maschilismo è quello di far vedere che però c'è un dono accanto a te, che quello lì non puoi mica comprarlo. Si tenta in tutte le modi di comprare la donna, di fare in maniera che sia come vogliamo noi. Sì, certo. Infatti la roviniamo. Quindi il dono in gran parte lo sciupiamo. Però allora rimaniamo ancora sempre nudi. È vero. È solo quando cediamo a un certo primato, indubbiamente bisogna dire. Ecco, quindi il primato del dono esige anche un posto, non un ruolo, un posto molto unico e molto importante per la donna, per tutto quello che è il femminile.